Salve a tutti, oggi vi parlerò di una partita del sesto turno tra Maiello Mario e D'Amato Gianluca. L'apertura è la numero 20 ed è considerata 1N. Mi dispiace non esserci stato per molto tempo, ho avuto molto da fare, soprattutto mi sto preparando per un torneo del 12 marzo. Bene, iniziamo. La partita inizia con 21-17, 11-15-26-21, poi il nero prosegue con la 7-11, che è una delle mosse più giocate, 23-19 e il nero cerca di andare verso il centro. Il bianco fa 28-23 permettendo questo scambio qui, però è tutto nella norma qui. Poi qui il nero fa 8-12. Le risposte più comuni erano 1-5 e 4-7, ma esce fuori teoria con 8-12. Ora viene fatta 27-22, 1-5 per il nero. 21-18 cercando di mettersi in questa posizione centrale. centrale, poi il nero avanza con 5-10, giusta, 30-27, poi fa la 4-8, 23-19 in modo da posizionarsi al centro. E il nero fa 11-14, cercando di contenere questa posizione qui. Poi viene fatta 27-23 e il nero fa la 2-6. La 2-6 serve per invogliare al bianco di andare in questo lato. Ora, vediamo un attimo, cambiando il lato di gioco. Se il bianco va qui, il nero ha la partita vinta con questa mossa. Perché infatti, diciamo che qui non può andare, perché ci sarebbe questa e poi il pezzo sarebbe in presa. Lo stesso, se fa una mossa diversa, per esempio questa, ecco, qui c'è questa qui. Il bianco deve catturare per forza, il nero cattura. E il bianco gli rimane questa pedina in presa e in più il nero sta andando a dama, in una delle due zone. Quindi, il bianco proprio è in persa, proprio una partita persa questa. Quindi, giustamente, 29-26. Ora il nero risponde con 6-11. 26-21 del bianco. Cioè, io non ne avrei abbeccata una, io avrei fatto 23-20 e sarei entrato in quella variante lì. 26-21. 11-14 per il nero. E fin qui è tutto pari. Ora il bianco, per andare velocemente in questa zona, fa 22-18. Infatti, il nero cattura, le cattura e in qualche modo va a dama. Il nero gli vuole impedire questa zona, quindi fa 10-14. Quindi, il bianco fa 11-7. 22-26. Il nero corre a dama anche lui. 7-4. E 12-15. 4-7. Ovviamente il bianco cerca di attaccare. E 26-30. Qui il bianco non fa la 7-11 perché ci sarebbe l'incollatura e l'attacco finirebbe. Ma invece fa una subdola 23-20 in modo da far spostare questa e poi attaccare tranquillamente. Anzi, qua non potrebbe neanche attaccare perché ci sarebbe questa. Comunque, intanto prepara un terreno fertile per l'attacco e fa 23-20. Il nero ovviamente fa la 15-19 così a meno da evitare la 7-11. E il bianco fa appunto 7-12. Il nero ora fa 19-22. Il bianco lo insegue. 30-27. Tanto se il bianco attacca, qua c'è l'incollatura. Il bianco è costretto a mangiare con la dama. Quindi il bianco giustamente non attacca ma porta avanti la 20. Il nero va verso questo lato, poi viene fatta 21-18 e poi 27-23. Il bianco pensa bene a portare, diciamo, la pedina avanti perché con questa non risolveva niente. Il nero riesce sempre a proteggere le due pedine. Quindi il bianco fa 18-14. Ora il nero poteva tranquillamente andare in venti scacciando così la dama bianca e salvare meglio le pedine. Anche perché la dama bianca non poteva essere protetta in questo modo perché ci sarebbe stato questo. Quindi qui la dama è bloccata. Le pedine sono un po' più bloccate perché diciamo che sicuramente un pezzo viene perso qui. Anche perché questa non può muoversi. Questa se si muove viene attaccata dal nero. Quest'altra pure. Quindi la dama bianca si doveva muovere e poi il nero tranquillamente portava le pedine in salvo. Ma viene giocata 23-27. Quindi il nero ritorna indietro sui suoi passi. 14-11 in modo da fare il cambio in questo punto. 19-23 adesso. E qua il bianco non si sa per quale motivo non attacca ma fa 11-7. Forse non si è accorto ma questa era vincente. Probabilmente non l'ha fatta. Ha fatto 11-7 perché in pratica temeva che con la 3-7 potesse andare avanti. Anzi temeva anche questa. Ma ovviamente qui non ci sarebbe andato. Sarebbe andato solo 26. Infatti questa è la continuazione corretta. Poi 24-20. 14-18. E qua si prendeva il pezzo. Quindi questa è una vittoria mancata. 11-7 quindi. Ora il nero fa 27-30 così a meno da proteggere la pedina. Quindi il bianco fa 24-20. Cerca di portare le pedine alla damatura. 30-26 in modo da cercare un tiro. Il bianco ovviamente si sposta. Per esempio mettiamo caso che facesse questa. Qui c'è il tiro. Quindi il bianco si sposta. Il nero avanza. Ora il bianco cerca di portare anche quest'ultima pedina. Il nero cerca di impedire in qualche modo. 12-16. 22-27. Tutte mosse di sviluppo. E da qui i due. Sanno che faranno pari. Spero di poter portare nuovi contenuti al più presto. Così diciamo di andare avanti con questo torneo. Perché novembre è vicino. Quindi diciamo che poi ci sarà un altro torneo da commentare. E quindi meglio che mi sbrigo. E poi diciamo che il 12 marzo ci sarà appunto un torneo ad Adrano. Vicino Catania. E lì participerò. E come sempre porterò delle mie partite. O partite anche di altri. Allora alla prossima. Allora alla prossima. Allora